Ciao a tutti! Io sono Laura e oggi vi ho portato fast food di Plasti Arco. Allora, aspetta, sto cercando se si è scritto una cosa. No, si può giocare anche se hai un anno. Non si è scritto niente. Allora, contiene 8 salsicciotti da 50 grammi, stampo con 3 formine, 2 stampini tagliapasta, 2 stampini cupcake, estrusore effetto crema, stampino per hot dog piattino e forchetta e cucchiaio. Questi si possono mescolare, ma a me non si possono mescolare. Spero di non far cadere niente. Allora, cosa facciamo per prima cosa? Io direi di fare, facciamo, non so, Allora, il problema, il solo problema è che non c'è la pasta per fare la hot dog. Allora, c'è di con la forma per farla. Facciamo un panino a forma di qualche, mi vedete? Allora, apriamo questa. Ok, vai fuori! Speriamo, mettere bene. Ok. Allora, mi serve un po' Non so cosa sto facendo. Ehm, aspettate, sto facendo qua un attimo. Facciamo a forma di cuore. Ok. Ok, perfetto. Un po' di pazienza. Ecco un bel cuore che ci è venuto. Ehm, non perfettissimo, ma... Però, vabbè. Allora, in questo cuore, proveremo a, proveremo, non so, a tagliarlo a metà. Ma cosa sto facendo con una porchetta? Tipo, io, cosa sto facendo? Tagliamolo a metà come un hamburger. Anche se non è proprio a metà, ma io non sono perfetto. Ok. E prendiamo, questa non ci serve. E prendiamo l'insalata che è verde. E ci mettiamo, non dobbiamo fare un cuore. Perché, alla fine... E' molto difficile da farlo. Ok. Perfetto. Vedete, questo è... Aspettate un attimo. Questa è un salata. La mettiamo qua dentro. Poi, ci servono i pomodolini. Che sono rossi. Quindi, cosa facciamo? Chiudiamo fino a questo, no. Diventano secchi. E poi... Apriamo questo coso, che non so come aprirlo. Esci! Aspetta, mi faccio uscire io, con le mani. Perfetto. Non prendiamolo tutto, perché sennò... Me lo spreco. Perciò, mettiamolo qui. E facciamo... E facciamo... Perfetto. Ed è tipo dei pomodolini. E li mettiamo qui, sempre. Poi... Non so, per ultima cosa, ci mettiamo questi. Che, sinceramente, non lo so cosa sono. Però li voglio fare gialli. Scrivetelo qua sotto nei commenti, qua sotto, che cosa può essere questo. Chi lo sa? A me sembra tipo una coscia di polvo. Sono meglio... Allora... Scriviamo tutto quello che non ci serve più. Poi... Prendiamo il giallo. Ok. Prendiamo una con le mani, che è meglio. Però che problema è che non si prende. Allora ci serve solo un pesettino. Quindi prendiamo. Perfetto. Adesso non so più come prenderlo. Ecco qui. Ho fatto anche questo. Mettiamolo qui. Ok. Ho fatto... Un hamburger. Diciamo. Non è venuto molto bene. Però, vabbè. Chiudiamo tutto. E niente. Per questo video è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.